Utilamoc fecissemus, magari l'avessimo fatto, replica Critognato. Non solum famem tolleravissemus, non solo avremmo sopportato la fame, sed eos non vidissemus, inedia morientes, ma non li avremmo visti morire di fame. Fuerit sane bonum tuum consiglium, ammettiamo pure che la tua proposta sia stata valida, ribatte Vercingetorige. Num carne umana vescaris? Ti ci beresti forse di carne umana? Non è orribile est pueris vesci? Non è forse orribile nutrirsi di bambini, mangiare i bambini? Vercingetorige giunge alle porte dell'accampamento romano. Sistite, queso, fermatevi, vi prego, ne telamittatis, non lanciate i giavellotti, cesaris salutandi causa, uc veni, sono venuto per salutare Cesare. Vercingetorige giunge al cospetto di Cesare e consegna la spada in segno di resa al nemico. Fortune succumbo, Cesare, mi arrendo alla sorte, Cesare. Me interficias, uccidimi. Ma Cesare ha ben altre intenzioni. Ne festines, non avere fretta. Vercingetorix, Vercingetorige. Fueris licet, malus. Ammettiamo pure, licet, fueris malus, che tu sia stato malvagio. At nolo, ma non voglio, statim te necare, ucciderti subito. Ante aducendus eris in triunfo. Prima dovrai essere condotto nella marcia trionfale Quem de te Rome Agam, che celebrerò su di te a Roma.